Buongiorno e benvenuti a Occhio ai Giornali, il commento alla stampa del giorno, oggi è sabato 16 gennaio 2021, ben ritrovati sul canale 17 di Fano TV, allora subito il santo, le previsioni e poi i giornali, al santo di oggi è San Marcello I, il sole sorgerà alle 7.41 e tramonterà alle 5 di oggi pomeriggio. Andiamo a vedere il bollettino meteorologico della protezione civile delle Marche che per oggi indica cielo irregolarmente nuvoloso con possibilità di brevi ed isolati fenomeni mattinata più probabili nel settore interno centro-meridionale con il limite delle nevicate attorno ai 300-400 metri, possibili gelate nottetempo specie nei fondovalli interni. Per domani, domenica, domenica 17 gennaio avremo ancora possibilità di brevi precipitazioni sparse in serata lungo la fascia costiera centro-meridionale. Lunedì 18, la settimana si apre con la pioggia, sparse precipitazioni di debole intensità durante le ore notturne, più probabili nel settore centro-meridionale della regione, in particolare lungo la fascia costiera. Limite delle nevicate intorno ai 500-600 metri, condizioni di tempo stabile per le giornate di martedì e di mercoledì. Andiamo subito a vedere i giornali, cominciamo dal Corriere Adriatico, l'edizione di Pesero, l'apertura, la fotonotizia, io apro il grande flop con Blef, anche Sgarbia, la cena di carriera. Le regole per vivere invece da domani, domani entriamo in zona arancione, ci resteremo almeno per due settimane. Nelle Marche confermato il passaggio in zona arancione, Acquaroli almeno per due settimane, forse tre, ristoranti chiusi, non si può uscire dalla regione e il nuovo decreto del governo vieta l'asporto ai bar dopo le 18, ma parliamo di asporto che si limita alle bevande. Quindi credo che per quanto, se uno vuole prendere una pizza da portare a casa in pizzeria, si possa fare senza troppi problemi. Allora, c'è anche la polemica in regione sulla prima del Corriere per tre incarichi al Presidente Dino Latini, il PD va all'attacco e ha presentato una interrogazione urgente, si tratta di tre incarichi legali affidati dall'azienda ospedale Rinuiti di Torrette all'Avvocato Dino Latini, dopo le elezioni in Consiglio regionale, due dei quali successivi la nomina a Presidente del Consiglio. Poi, in breve, per il Marchio Berloni a Pesaro, richieste dall'Asia solo però per gli elettrodomestici. Sempre a Pesaro, residenza per anziani al posto dell'ex Enel, rischio per le cubature e a Fano contrae il Covid a Santa Croce e muore per infarto. Poi, sempre dalla prima, l'affare d'oro era un bidone, 44 truffati chiedono giustizia, i promotori promettevano investimenti e guadagni, ma i soldi dei risparmiatori finivano nei paradisi fiscali. Il Fano cerca un altro colpo da salvezza con il Gubbio, siamo nelle pagine sportive. Il Carlino di Pesaro, fotonotizia, piomba sgarbia, la cena vietata a Monbaroccio, il critico d'arte nel ristorante di Carriera sarà multato. Arancioni forse per tre settimane, il titolo d'apertura. Acquaroli, temo che le restrizioni siano prolungate, ecco le regole da domani. Oggi però siamo ancora gialli. Professore a luci rosse, solidarietà dopo la bufera, mail da studenti e da colleghi. Nel basket c'è da segnalare un positivo nella VL, tamponi oggi a tutti, arriverà anche il verdetto e poi superiori chiuse, l'ipotesi del ricorso al Tar. Il processo appesero 15 truffati dal team dei broker. E poi sotto l'arcivescovo Coccia resterà per tutto il 2021. La pensione dunque può attendere, mentre il Presidente del Consiglio regionale, sanità e incarichi legati a scoppia il caso Latini. Questa invece è l'apertura del Carlino di Ancona. Ceneri belli, blitz e multe. In tutta la provincia è andata in scena l'annunciata riapertura, nonostante le restrizioni Covid. A Marzocca di Senigallia il ristorante statale 16 era tutto esaurito e sono fiaccate sanzioni anche ai clienti. Dunque da domani, come dicevamo, Marche Arancioni, sarà così per due settimane, speriamo non diventino tre, dice il Governatore Acquaroli che conferma la zona intermedia con un RT a 0,97, penalizzati dal sovraccarico delle terapie intensive e dell'area mediche. Poi dell'area medica, poi il Governatore lancia l'appello anche per cercare di non urtare già i nervi abbastanza scoperti dei marchigiani, anche se poi continuo a ribadire che se da domani saremo in zona arancione non è certo per colpa del virus. L'appello del Governatore, dicevo, le norme vanno sempre rispettate anche se non condivise. Arancioni per due settimane, forse tre, il titolo del Carlino, ecco le regole da domani, oggi ancora gialli. Intanto ricordiamo che per queste prossime due settimane la gente non si potrà ospitare più di due persone, non compresi minori di 14 anni o disabili a carico, una volta al giorno, se ci si trova in zona arancione, solo all'interno del proprio comune. Quindi per quanto riguarda gli ospiti a casa, non più di due. Per quanto invece concerne la vendita nelle zone rosse e arancioni, non saranno aperti al pubblico i bar e i ristoranti, vietata dopo le ore 18 la vendita di bevande, bevande da asporto, da tutti gli esercizi commerciali, possibile invece quella di cibo, così come la consegna a domicilio. Per quanto riguarda i negozi, al dettaglio restano aperti, ma i centri commerciali saranno chiusi nei festivi e prefestivi, tranne gli alimentari e servizi essenziali. Chi vuole fare sport ancora chiusa, chiuse palestre e piscine, è possibile praticare solo all'aperto con distanze di almeno due metri da un'altra persona, anche per la corsa, anche quando si va in bicicletta oppure si fa ginnastica. Ovviamente sono vietati gli sport di squadra o di contatto. Gli impianti sciistici di risalita rimarranno chiusi, possibile solo lo sci di fondo, ma in solitaria. E, come vi dicevo, non è colpa del Covid, nel senso che, andiamo a leggere sempre dal resto del carino questa notizia che arriva da Gallo di Petriano, siamo sempre nel Pesarese, tutti al bar senza mascherina e a distanza ravvicinata, aperitivo con multa. Sei avventori scoperti dagli uomini del commissariato d'Urbino, per tutte queste persone 400 euro di multa, ma come è noto si può ottenere lo sconto 280 euro se si pagano entro cinque giorni. La rabbia dei ristoratori, disobbedienti, noi rischiamo ma siamo stati lasciati soli, questa è la pagina nazionale del carlino. Da nord a sud dell'Italia, numeri della protesta inferiori alle attese, ispezioni delle forze dell'ordine con tanto di verbali e possibili multe. Il numero uno di FIIPET Confesarcenti dice comprendiamo il disagio della categoria, ma le cose si cambiano rispettando la legge e qualcuno ha tenuto aperto in giro per l'Italia anche palestre. Sgarbi a cena, sarà multato, chiuso il ristorante di carriera a Monbaroccio in 30 tavola scattano i verbali. Ora, noi vi abbiamo raccontato ieri in diretta fino alle 22, l'orario in cui poi è scattato il coprifuoco, quello che è successo. Abbiamo sentito sgarbi, alcuni avventori, abbiamo fatto alcuni collegamenti per raccontarvi come è andata. Quello che è successo però dopo le 22 lo scrive Nicola Masetti sul resto del carlino di oggi. Siamo a Monbaroccio. Allora, è successo questo. La cena è proseguita all'interno del ristorante di carriera anche oltre le 22, orario indicato come coprifuoco dal DPCM. Per questo a quell'ora c'erano ancora le forze dell'ordine ad aspettare i clienti che uscissero. Alcuni, forse i più furbi, se ne sono andati prima dell'orario massimo. Alle 22.30 arriva un taxi per caricare un cliente, ma ormai il comune di Monbaroccio era diventato un fortino. In tutte le uscite stradali ci sono forze dell'ordine pronte a fermarti. Le targhe vengono indicate al momento della partenza. All'arrivo c'è la paletta e la successiva sanzione di 400 euro perché si è in giro dopo le 22.00. Mentre per la presenza nel ristorante i nominativi dei clienti verranno presi per poi procedere alle sanzioni. Nel locale di Carriera, alle 23.30, sono stati messi i sigilli e il ristoratore è stato sanzionato con 400 euro. Ecco perché ieri a un certo punto avevamo detto nel corso della trasmissione che c'erano delle pattuglie dei carabinieri ferme per la strada. Inizialmente avevamo detto che erano lì per dei controlli di routine. Qualcuno ci stava segnalando che a Monbaroccio non si era vista tutti quei carabinieri negli ultimi anni, per cui era chiaro che fossero lì per sanzionare i clienti. Questa volta i carabinieri hanno agito in maniera diversa. Piuttosto che fermarsi davanti al ristorante, si sono appostati nelle strade principali del paese e li hanno aspettati al barco. Tra l'altro Sgarbi è stato multato anche già una prima volta da Carriera. Quella volta quando vi abbiamo fatto vedere su Facebook, sulla nostra pagina di Facebook, il suo arrivo e la cena veloce prima di andare a San Marino, credo che in quella occasione fosse quella, comunque è stato multato. Il Corriere Adriatico. Io apro, nel flop spunta il blef, i locali chiusi e i clienti a caccia. La mobilitazione annunciata a livello nazionale localmente si risolve in una cena per 38 commensali. Il disobbediente Carriera ha accolto gli ospiti a Monbaroccio e in serata si è presentato anche Sgarbi. Di tutt'altro tenore, questa è una storia che però mi sento di farvi vedere sul Carlino di Ancona, perché questo signore che è il titolare del locale Cipstar, soccorso Garibaldi, si chiama Walter Dominici, ha 49 anni e ha investito tutto nel suo locale. Ora il problema qual è? Che non riesce, questo signore, questo Walter, non riesce più a pagare l'affitto, l'affitto del locale. I proprietari di questo locale, in corso Garibaldi e Ancona, gli hanno fatto arrivare l'ingiunzione di pagamento e quindi di sfratto. Io dice, li capisco, ma non ho mai avuto debiti in vita mia. Ad oggi ho pagato tutti i fornitori, ho gli arretrati solo con il canone di locazione e tutti i bonus statali e fondi Covid che ho ricevuto li ho girati ai locatori. La pandemia, dice lui, è una disgrazia, è una disgrazia che ci ha ridotto allo stremo e non mi piace chi sfida la legge tenendo i locali aperti. Spesso racconta Walter mi addormento su una branda qui dentro il negozio e non torno a casa per risparmiare la benzina. Ma cosa lascerò ai miei figli se mi sfrattano? In quell'attività dice io ho investito i miei risparmi, i soldi che avrei voluto lasciare ai miei figli. Di pensieri brutti sì, ne faccio, ma ora la proprietà, ora la priorità, scusate, è in questo momento aiutarlo a non chiudere. I clienti più che una pacca sulle spalle non possono fare. Intanto Domini ci lancia un appello, vorrei parlare in modo educato e civile con il sindaco Mancinelli, sindaco di Ancona e col presidente della regione Acquaroli perché ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni. Peccato che le istituzioni non sempre hanno fiducia in noi, ma comunque questa è un'altra cosa. Ma speriamo davvero per questo Walter, come Walter ce ne sono tantissimi purtroppo, che non hanno il coraggio di andare sul giornale, in televisione a denunciare, raccontare, però quando si arriva a questo punto vuol dire che si è proprio alla frutta. E quindi speriamo che possano aiutarlo. C'è una ribelle invece, ci spostiamo leggermente un po' più in là, un po' più verso di nuovo la nostra provincia, siamo a Marzocca, anche qui c'è una ribelle da tutto esaurito ma scatta il blitz. Anche lui, questo titolare che vedete nella fotografia dice ho deciso di aderire alla protesta perché bisogna fare qualcosa così non si può andare avanti. C'erano 26 commensali, sono arrivate le forze dell'ordine con sanzioni per tutti da 400 euro. Sotto invece di Nuova Dancona, nessuno al tavolo, solo carabinieri, ma come sopravvivo? Cioè, meno vaccini però, questa è la doccia fredda che arriva per l'Europa. Meno vaccini in arrivo, Pfizer gela l'Europa, ma Arcuri, il commissario straordinario per l'emergenza, non ci sta. Pronti alla guerra legale. Il colosso americano annuncia ritardi. Da lunedì prossimo il 29% di flaconi in meno all'Italia e deciderà anche a quali regioni consegnarli. L'allarme del commissario, così la tabella di marcia è a forte rischio. Un milione di immunizzati al via i richiami del vaccino dei. Ricorderete che qualche domenica fa c'è stato il giorno del vaccino e adesso quelle persone, soprattutto sanitari, che hanno già fatto la prima somministrazione, devono fare il richiamo. Però, insomma, ci saranno questi vaccini per il richiamo? Speriamo di sì. Intanto, prof a luci rosse, l'ora della solidarietà, mail dai colleghi e dagli studenti. Parla l'insegnante dell'Accademia di Urbino, finito nella bufera per il video OSEE durante la lezione. Molti hanno espresso parole di comprensione ai miei confronti e questo mi conforta davvero. Ieri tante telefonate al docente, ma spero che questa storia, dice lui, finisca il più presto e venga archiviata. Intanto, quando questa storia finirà nell'oblio, probabilmente il prestigioso istituto Urbinate potrà tornare sui suoi passi, rientegrando all'insegnamento questo esperto d'arte che, lo ribadiamo, lo abbiamo detto anche ieri, è ben voluto da tutti ed è un ottimo professore. 15 pesaresi truffati dal team dei broker, attirati da interessi stratosferici, avevano affidato i risparmi ad un gruppo di agenti finanziari. Ora le vittime tentano di recuperare i soldi. Intanto l'arcivescovo Coccia resta per tutto il 2021. La notizia è sempre dal Carlino di oggi. Compiuti i 75 anni, aveva presentato le sue dimissioni come da prassi, ma dal Vaticano è arrivata la proroga, la pensione. Può attendere intanto l'addio a Norris De Stefani, scusate, Pesaro, orgogliose di lei, il funerale della cantante nella chiesa di San Carlo. La pagina di fano del Corriere Adriatico ricoverato per ischemia contrae il Covid e muore dopo la setticemia per un infarto. Il calvario del noto artigiano Maurizio Armani che è stato infettato dal coronavirus al Santa Croce. Aveva 78 anni e ancora lavorava nel suo storico laboratorio di elettromeccanica. Il funerale di Armani si terrà questa mattina alle 10 nella chiesa di Santa Maria Goretti nel quartiere di Sant'Orso. Intanto addio al vescovo sorridente che sapeva insegnare, funzione presieduta dal cardinale, no, non era presieduta dal cardinale Menichelli, Menichelli non si è visto, è stata la funzione presieduta dall'arcivescovo di Pesaro Piero Coccia. Poi c'era anche il vescovo di Fanoc Trasarti e poi tanta altra gente. Insomma questo è un frame invece della funzione celebrata nel Duomo di Senigallia e trasmessa come scrive anche il Corriere Adriatico in diretta da Fano TV. La pagina del Carlino, treni, poche le fermate e per Roma è un'odissea. Viaggiatori fanesi sempre più penalizzati nel trasporto su rotaie e tra i nostri parlamentari c'è chi preferisce raggiungere la capitale in auto. E poi l'addio a Maurizio Armanni, storico artigiano della città, amava il suo mestiere ed era molto conosciuto. Mentre sull'altra pagina di Fano del resto del Carlino, Pincio, controlli a tappeto e c'è anche un arresto, commissariato in azione in una delle parti più sensibili della città insieme agli agenti della polizia locale e con l'ausilio dei cani del nucleo cinofilo. 48enne pesarese arrestato per un documento di identità falso. E poi ancora dalle pagine di Fano, carro dedicato a Paolo e Francesca. Paolo e Francesca sarà realizzato dal Comune di Gradara, così il Carnevale celebra l'anniversario legato a Dante Alighieri. Sotto, anzi, l'altra pagina, questa volta dal Corriere Adriatico, le norme Covid, sempre da Fano, frenano lo smog. Inquinamento sotto controllo. Brunori rassicura dopo l'incontro con Arpam e Asur, penalizzati dall'umidità. E sotto, invece, se riesca dal Palazzo in sette anni ha fatto solo un progetto. Del vecchio dell'Udc attacca il Sindaco, governo cittadino bocciata dal calo demografico, dal crollo delle attività. Dubbi sugli incarichi professionali ancora da Fano. Il Comune li assegni a rotazione. Fano città ideale segnala l'invito, a tre professionisti collegati tra loro. Solo uno fa l'offerta. E poi sotto, invece, Pesarese arrestato perché aveva documenti falsi, esibiva carta di identità e patente della Romania. Berloni, lo storico marchio delle cucine. L'Asia chiede appunto il marchio ma solo per gli elettrodomestici. Al liquidatore Meloncelli continuano ad arrivare offerte. A breve si definirà la continuità della produzione. Mentre sull'effetto lockdown furti quasi dimezzati, ma si presentano 15 denunce al giorno. Il bilancio di un anno di attività dell'Arma dei Carabinieri identificati responsabili di un reato su quattro. Intanto alla vitri frigo arrivano i super occhi elettronici e videosorveglianza. Ci saranno 49 telecamere, quattro monitor e otto switch. Il pronto soccorso, Urbino, è una passione e una croce. È andato in pensione il primario Filippo Mezzolani. Una vita trascorsa in prima linea nel reparto più scottante dell'ospedale di Urbino. C'è una sua intervista questa mattina sul Carlino. Purtroppo a decidere sono i politici che vogliono i risultati a breve termine e non i tecnici. Dunque parla anche dell'intreccio nel mondo della sanità tra la politica e appunto coloro che invece ci lavorano. Medico al telefono per gli isolati. Estendere il servizio oltre Urbino. Gambini conferma la riapertura del reparto di cardiologia ed esalta la nuova idea. Le prime chiamate sono arrivate da Pesaro e da Gradarea. Ho proposto il numero all'Unione Montana. Tutti entusiasti ma gli operatori sono da aumentare. Prof fa sesso durante la didattica a distanza. Tutti sanno chi è. Lezioni a luci rossa, le belle arti. Uno studente dice errore, inspiegabile. E poi da Vallefoglia. Scuola sicura, Monbaroccio fa da sola. Tamponi per alunni, docenti e personali. Ieri in 140 hanno deciso di effettuare il test. Trovate un solo positivo. Il sindaco dice questa nostra iniziativa è gratuita. Intanto oggi scatta lo screening e io sarò il primo a farlo, dice il sindaco di Vallefoglia a Palmiro. Occhielli, appuntamento al Palavitri. Contagi diminuiti ma non si abbassa la guardia. Tenete aperto l'ufficio postale. Invece è l'appello del sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Il sindaco ora lancia anche una petizione per tenere aperto l'ufficio postale. Lo sportello di Cartoceto disponibile un solo giorno a settimana. Il sindaco dice e chiede di tornare invece a tre giorni a settimana anche perché nell'unico giorno ovviamente poi la gente si assembra e di conseguenza insomma non è che sia il massimo. La misura adottata contro il Covid produce l'effetto paradossale appunto degli assembramenti. Poi oggi l'ultimo saluto ad Adriano Mei, il guerriero, grande attivista dei comitati e polemista, aveva lanciato la battaglia inceneritore. Questa mattina alle 10 nella chiesa di Villanova si svolge il funerale appunto di Mei, morto a Terni all'età di 71 anni. Dalla Valcesano si sposta da oggi in altri tre comuni la ricerca dei positivi senza sintomi. A Terre Roveresche l'indagine riguarda gli abitanti di Mondavio anche e di Monte Porzio. Poi tira giù la saracinesca, l'ultimo barbiere di Piobbico. Dopo 50 anni di attività decide di andare in pensione Franco Granci. Da me sono venuti anche calciatori come Walter Zenga o Anastasi. Mentre a Senigallia il Ponte 2 giugno nel fine settimana riapre i pedoni, superate le prove di carico, sarà intitolato alle vittime della strage di Corinaldo 2018. Quindi non più 2 giugno ma Ponte degli Angeli dell'8 dicembre 2018. Siamo allo sport, altra finale per il Fano. C'è il gubbio da battere. Destro è una partita importante per la salvezza. Servirà spirito e sacrificio. Mentre a Bolzano tutta un'altra vis. Dovrebbero essere 3 i nuovi volti nell'11 di partenza. Mentre Tassi andrà in panchina. E poi la VL che deve fare i conti ancora con un giocatore positivo. Oggi tampone rapido per gli altri due. Per gli altri per escludere, diciamo, escludere sorprese e quindi di non giocare. VL un positivo. La gara di Sassare dunque in forse. Titola il Carlino. Stamattina nuovi tamponi sperando che il contagio non si sia allargato. Si tratta di un atleta ma pare non del quintetto. E dunque tutti con il fiato sospeso. Parliamo anche di MotoGP fatta in casa. Con il passaggio di Luca Marini diventano tre i marchigiani nella classe regina del Moto Mondiale. Per Rosse e Morbidelli un nuovo amico e rivale. Nelle classiche adette restano Baldassarri e Fenati. Dunque dopo la problematica ma appassionante stagione del 2020 si avvicina già il prossimo Moto Mondiale rispetto ai 14 GP dello scorso anno. Con tante cancellazioni e rinvii oltre alle doppie gare sulla stessa pista, la Dorna ha impostato un calendario su 20 gare con apertura tradizionale notturna in Qatar che sarà il 28 di marzo, poi la chiusura a Valencia il 14 di novembre e per la situazione sanitaria internazionale lontana da soluzioni in tempi brevi saranno possibili spostamenti e i rinvii. Intanto i piloti marchigiani si stanno preparando al loro nuovo impegno. Voglio chiudere invece con questo aggiornamento che riguarda Whatsapp del quale vi abbiamo parlato nella rassegna stampa di qualche giorno fa anticipandovi che anche FanoTV avrebbe e quindi noi avremmo come redazione saremmo usciti da Whatsapp per passare probabilmente a Signal oppure a Telegram, stiamo valutando. Per oggi la notizia sul resto del carino è questa. Whatsapp perde clienti, infatti tantissimi stanno lasciando Whatsapp perché l'8 febbraio aveva fissato all'8 febbraio la scadenza per rivedere e accettare l'aggiornamento dell'informativa sulla privacy, pena la sospensione oppure l'eliminazione dell'account, cioè se entro l'8 febbraio non si accettano le regole di Whatsapp sulla nuova privacy che è molto di manica larga, ovviamente l'account viene eliminato e viene sospeso. Accettarla invece significherebbe comunque condividere molti, troppi dati sicuramente con Whatsapp, con Facebook e quant'altro. La novità qual è? È che sulle nuove regole della privacy Whatsapp, Facebook ha annunciato di, o meglio ci ha ripensato un attimo e quindi si è preso tre mesi di tempo, forse per studiare qualche altra cosa. Comunque non più l'8 febbraio ma il 15 maggio, quindi abbiamo ancora un po' più di tempo per, intanto rimaniamo così, poi vediamo che cosa succede, se dovesse essere confermato tutto quanto ovviamente ci sposteremo su qualche altra piattaforma, ripeto, Signal oppure Telegram. L'informazione con la resegna stampa si conclude qui, grazie per averci seguito, l'augurio è di trascorrere un buon fine settimana, grazie per averci seguito, questa sera alle 20.30 vi ricordo l'appuntamento con il nostro magazine 7 per occhio, i fatti di questa settimana raccontati uno dietro l'altro. Grazie per essere stati con noi, ancora buona giornata a tutti. Grazie. 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 Grazie.